Gentili telespettatori, buona giornata. Io rimango ancora sconcertato per quello che vi sto raccontando. Letta, il nuovo, nuovo, l'usato sicuro, il vecchio che ritorna, non il nuovo che avanza, ma il vecchio che ritorna, è Enrico Letta, un capo politico anonimo o forse un po' un comico, un po' un comico come Becpegrillo, perché oggi, ieri, ha continuato ad insistere solo gli ussoli e sul voto ai sedicenni di Tealetta che, secondo gli ultimi sondaggi, i sedicenni non voterebbero per lui, voterebbero per la Lega. Per la Lega, diteglielo che non ha capito niente quest'uomo. Si è fissato con il voto ai sedici anni. Ma che vuol dire? Cioè, questo tizio qua l'hanno eletto due giorni fa, ed è da due giorni che continua a ripetere due cose. Voto ai sedici anni, cittadinanza agli immigrati. Ma è uno scherzo? No, mi state facendo uno scherzo. È una candid camera. Ma non è possibile. Non ci credo che il leader politico di un grande partito italiano, in un momento di crisi spaventosa economica, sociale e sanitaria, mi parla sul voto ai sedicenni. Il voto ai sedicenni. E vabbè. Sentite cosa dice. Il nostro paese è in un disastro demografico, in un inverno demografico. Avete presente l'inverno nucleare? L'inverno demografico. Non ci sarà nessun entusiasmo di ripartenza se non consideriamo la questione dell'inverno demografico. E poi penso ad una cosa che possiamo fare da subito. Portare il voto per il Senato a sedici anni. E fai dieci anni, no? Fai dalla nascita. Facciamo dalla nascita, no? È importante che nei pesi elettorali, sentite qua, eh? I giovani siano forti. Altrimenti peseranno solo le istanze degli anziani. Invece credo che i giovani vadano aiutati. Beh, allora. Bisogna far votare i sedici anni perché adesso, visto che si vota da diciotto anni, a diciotto anni sei un anziano. A diciannove, venti, sei un anziano. Quindi vogliamo far votare solo gli anziani in Italia? Allora facciamo votare anche i sedicenni, così abbiamo ringiovanito il voto. È un voto più giovane. Uè, come va? Eh, ho sedici anni e sto andando a votare. Uè, come butta? Ma! Così Enrico Letta, neosegretario dell'IPD, incontrando l'associazione della stampa estera. Chissà le risate, chissà i rappresentanti giornalisti della stampa estera staranno dicendo, si saranno guardati in tori e dicono ma dov'è la telecamera nascosta? Sarà uno scherzo, no? Questo è il segretario del partito di sinistra che arriva, è eletto segretario, chissà cosa dirà sull'economia, sui vaccini, sulla crisi sanitaria, sulla ripartenza, i ristori, il recovery plan. No, il voto è i sedicenni. E io rimango veramente, non so voi, ma sembra un incubo, ma un incubo per gli elettori del PD. Allora, visto che sul canale ci sono come un 6-7% di sinistra, 6-7% su 110.000, stiamo parlando di oltre 7-8.000 persone che sono iscritte. Più mettetecene altre, un altro 7-8.000 che non sono iscritte ma guardano lo stesso canale. Poi 15-20.000 persone votanti del PD e io mi chiedo, ma come fate a votare una roba del genere? Giorgia Meloni ieri ha detto, ma voi volevate farci entrare in un governo con gente di questo tipo, un po' schifato, con gente di questo tipo? Io capisco, magari diceva, no, adesso i ristori non li diamo agli albergatori, li diamo a quelli che hanno la pizzeria, non so, boh, un'idea. No, no, il voto è i 16 anni e Carlo Verdone ha detto, per ridere, in che senso? Non so se avete visto un film, quelli primi film di Verdone, in che senso? Ecco, in che senso? Se lo stanno chiedendo, credo anche gli elettori del PD, ma staranno pensando, ma prima c'era quello che rideva e che diceva, parlava di aria fritta, mo' arriva questo che ripete due cose come un disco rotto, il voto è i 16 anni e lo you soli, lo you soli, lo you soli, ma, insomma, e poi aggiunge che per la destra è solo propaganda. Allora, va bene, il voto è i 16 anni, se lo vuoi far passare, vedrai che troverai d'accordo anche la destra, perché i 16 anni, non so, letta, informati, 16-17 anni votano per la maggior parte centro-destra. ci sono tre sondaggi fatti da istituti demoscopici di un certo livello che dicono che i giovani votano centro-destra, quindi fate un po' voi. Va bene, facciamo passare anche quello dei 16 anni. Sullo you soli non c'è nessuna possibilità che passi in Parlamento perché non hanno i numeri. e poi dice che la destra è solo propaganda. Caro Letta, quello che tu stai dicendo credo che sia propaganda, forse stai cercando di raccimolare i centri sociali, i voti dei centri sociali, delle ONG, non so, perché, però così, caro Letta, Enrico, come Enrico Beruschi del Drive-In, caro Enrico, guarda che io credo che tanti elettori del PD non è che tornano sentendo tu che dici queste cose qua, io credo che vadano a votare per Calenda, vadino piuttosto da Renzi, perché a questo punto a questo punto io vi dico è meglio Renzi del PD, è meglio Leu, è meglio, andate andate a votare per Marco Rizzo di PC, Partito Comunista, cari elettori del PD, veramente, magari scrivetelo qui sotto, che cosa ci trovate in questo partito? La mia non è una domanda cretina, è una domanda seria, 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 perché un elettore dice questo è il mio partito, lo voto perché? Perché? Qual è il perché? Perché ha cancellato il decreto di sicurezza di Salvini e perché parlano male di Salvini? Cari amici di sinistra, guardate che i decreti di sicurezza di Salvini funzionavano e Salvini non ha mai fatto male a una mosca e ne ha una formica. Meno partenze, meno arrivi, meno morti in mare. È matematico, non è un'opinione mia, è matematico. Meno partenze, meno arrivi, e meno morti. Perché meno morti? Perché non sono mai partiti. Eh ma ci sono i morti che non si vedono. Eh ma quando ne partono tanti ci sono tanti morti che non si vedono. Quando ne partono pochi ci sono meno morti che non si vedono. Ce ne sono meno di morti che non si vedono. Quindi cerchiamo di ragionare con la materia grigia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie.